Quando si vuole riconoscere qualcuno gli si chiedono i documenti. Sui documenti ci sono gli estremi. Gli estremi in una carta di identità sono nome e cognome, nato a, nato il. Documenti miei alla mano vi dimostrerò che i miei estremi sono in Bibbia gli stessi di Gesù. Questi i miei estremi sulla carta di identità Romano Antonio Annapalo Torquata Modeo, nato il 25 1 38. Questo il mio codice fiscale e non ho scrupolo a mostrarvi. Quale documento per Gesù? Beh, sarebbe un po' pretendere troppo vedere la carta di identità di Gesù. Però vedete in Genesi, che è il libro primo di Bibbia e nel capitolo 25, da cui gennaio 25, Genesi 25, G più Esù è il primato G di Giacobbe, che lo leva a Esau levandogli l'A. Il nome di Gesù nasce in Genesi, Bibbia 1 25. Ora è evidente che in quel tempo non si potrebbe portare questo documento per Gesù, perché l'italiano ancora non c'era. Bene. Ma vedete, il nome di Gesù è anche in Genesi, Bibbia 1 38. Infatti, nella genealogia di Gesù secondo San Matteo da Giuda, da Giuda il padre in Genesi 38, come potete vedere, dando il numero 1 a Giuda, Gesù è il trentottesimo. Qui li vedete elencati tutti quanti quelli secondo la genealogia di San Matteo con cui inizia la sua Bibbia. E anche questo non si poteva sapere allora. E perché? E perché con Gesù vivo e San Matteo che aveva fatto la sua genealogia, nessuno andava a immaginarsi che Gesù era in trentottesima generazione col padre Giuda, perché doveva essere messo a confronto con un romano Antonio Anna Paolo Torquato Modeo in Genesi 25 38 come Gesù. Ora qui io vi mostro Genesi 25 e Genesi 38. Se volete bloccate e leggetevelo. Questo è Genesi 38, prima abbiamo visto Genesi 25, ma io ho fatto un estratto della parte saliente ed è questa qui in mezzo. Vedete Genesi 25 e Genesi 38 sembrano proprio messi uno in seguito all'altro. Infatti si comincia con il 24, 25, 26, secondo Genesi 25 e si continua con il 27, 28, 29 e 30 in Genesi 38. L'inizio di tutti e due è pressoché simile, infatti, come in Genesi 25 comincia dicendo quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco che due gemelli erano nel suo grembo. Invece in Genesi 38 c'è scritto quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco aveva nel grembo due gemelli. Vedete è la stessa cosa, uno è il seguito dell'altro, due gemelli nel primo, due gemelli nel secondo, sono relativi alla stessa cosa. Dunque leggiamo allora il Genesi 25, il primo. 25, uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo e fu chiamato Esau. Vedete il nome Esau nasce nel versetto 25. 26, subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esau. Fu chiamato Giacobbe, il nome Giacobbe nasce nel versetto 26. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. Vediamo che cosa si completa con Genesi 38. Quando essa fu giunta sul momento di partorire, ecco aveva nel grembo due gemelli. Durante il parto uno di essi mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo, questi è uscito per primo. Ora, in questo racconto di Genesi 38 c'era stato un primo marito di Tamar, che si chiamava Er, morto. Era stato sostituito dal fratello, perché il padre voleva dare un'eredità al primo genito, se non che Onan sapeva che il figlio che sarebbe nato sarebbe stato accreditato al fratello e allora inaugurò quel sistema anticoncezionale che ha preso il nome proprio da lui. Si chiama onanismo, ossia mettere il seme fuori al momento opportuno. Il signore fece morire anche lui. Allora Tamar trovò il sistema di farsi rendere feconda dal padre dei due, che era Giuda e non si accorse che si congiungeva con sua nuora. Si era travestita da prostituta sacra. Ora il figlio che sarebbe nato sarebbe stato accreditato a Er. Questo era lo scopo di tutta questa cosa. Dunque, quando nasce, che cosa? Una mano nasce. Vedete, in Genesi 25 c'è una mano, è la mano di Giacobbe che serve il calcagno del fratello, perché si vuole mettere prima. Qui la mano di questo che è il primo esce fuori dalla vagina, ma il corpo non esce. Allora la nutrice dice questo è il primo, prende un filo scarlatto e glielo mette intorno alla mano. Ora, questa mano a chi è accreditata, visto che doveva essere accreditata a Er, ma poi a Er è stato aggiunto onan? Er e onan congiunti insieme sono ro. Questa mano è accreditata alla coppia dei due mariti morti, Er e onan, ro. Ro ma è la mano di ro e questo è già un grande indizio, anche perché la sposa, che si chiamava Tamar, se la leggiamo in modo trascendente, ossia rovescio, Er amat. Amat è latino, è romano, lei ama Er romano amat. E già Er e onan un ronan, ossia un roman. Bene, andiamo avanti, perché con questo atto cessa la nascita del primo, perché a questo punto il fratello, da dentro il grembo materno, lo tira indietro, la mano rientra nell'utero e nasce. Vediamo un po'. Leggiamo, versetto 29. Ma quando questi ritirò la mano, ecco, uscì suo fratello. Allora essa, la nutrice, disse, come ti sei aperta una breccia? e lo si chiamò Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlato alla mano, e lo si chiamò Zerac. Anche qui, vedete, mettendo in ordine come sono nati, Zerac e subito dopo Perez, abbiamo uno zero, visto da sinistra e da destra, Zerac e Rez. Si tolgono di mezzo questi due estremi uguali e contrari, si azzerano. Cosa resta in mezzo? Resta A. Chi Rho è? Quella P è la Rho greca, e Chi Rho è il Cristo XP. La comunicazione è questa, A è il Cristo. Bene, avendo visto tutto questo, qui ora ci sono tutti quanti gli estremi di me, sia a sinistra per quanto riguarda Genesi 25, sia a destra per quanto riguarda Genesi 38. Ma visto che io desidero farveli vedere bene, leggere bene, ecco, vediamo di ingrandire un po' questo quadro in modo da potervelo far leggere con attenzione. Poiché io vi sto facendo adesso Bibbia 1, 25, vi ho mezzo in atto lì da tenere presente quello che abbiamo letto di Genesi 25. Ripeto, uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. Allora, leggiamo. In Bibbia 1, 25, Genesi 25, ecco gli estremi dello Spirito Santo di Dio disceso tra noi. Intanto Gesù, come vi ho detto prima, è in Genesi 25 il primato di Giacobbe con la sua G, seguito da Esaù, che non è più maiuscolo nell'iniziale perché è piccolino, è minuscolo e segue avendo perso il primato, avendo perso la A, e così nasce in Genesi 25 proprio il nome Gesù. Romano. Romano è il secondo nome rivelato in Bibbia 1, 25 tramite il popolo romano e Genesi 25 uguale gennaio 25. Perché il popolo romano? Perché il Dio, l'oracolo, disse alla mamma che andò lì a chiedere al Signore come mai aveva nel grembo tanta sofferenza, il Signore disse in te ci sono due grandi popoli, due popoli da te usciranno, un popolo sarà più forte dell'altro, il popolo più forte dell'altro è il popolo romano e romano come popolo e annunciato, nato in Genesi 25. Ma c'è di più perché Esaù, il nome di Esaù, in Es, è latino, è la lingua di Roma, la quale io sono, tu sei, egli è, dicevano sum, es, est, es significa tu sei, ma tu sei secondo quale linguaggio? un tu sei non inglese, certo, non francese, è un tu sei romano e au, au significa dall'inizio fino alla fine. Dunque, con Esaù è rivelato un tu sei romano da cima a fondo, ma non solo romano, perché costui perderà il suo nome e si chiamerà Edom, Edom in ebraico significa rosso, lui aveva ceduto la prima genitura per un piatto rosso di lenticchie e gli avevano nominato proprio Edom perché già era uscito rossiccio, come avete lì scritto, poi per un piatto rosso di lenticchie ha ceduto la prima genitura, lo soprannominarono Edom, tanto che tutti quelli della sua specie poi erano gli Edomiti. Ebbene, quando noi prendiamo questo nomignolo e ridando dignità ad Esaù togliamo di mezzo tutta la perversione che c'è in Edom, viene fuori Modè e Modè, da cima a fondo, è A, Modè, O. Per cui, vedete, in Esaù Edom c'è tutte e due queste comunicazioni, il tu sei romano da cima a fondo e tu sei da A a O, Modè, e tu sei a Modè, insomma, Esaù Edom indicano tu sei romano a Modè, ma non solo, ci sono tutti quanti i nomi, tutti. Perché? Perché il Signore spiegò alla mamma che aveva nel grembo due quantità uguali e spiegando quello spiegò in Genesi 25, in libro 1, 25, quella formula che quando è 42 il valore di Esaù e 42 anche il valore in gematria di Giacobbe, i due fratelli, che sono uguali, sono ciascuno 42, 84esimi. E allora la formula della sezione aurea è che 42, 84esimi più Genesi 25, ossia 1, 25, elevato a 42, 84esimi, determina quella sezione aurea che è determinata tra i valori 42 di Giacobbe e 84. Ma chi è quell'84 lì? È il valore di Mariannina, di mia madre. La mamma proprio che aveva nel grembo i due 42 vale 84, li contiene entrambi come 42 più 42, tanto che lei è la mamma che si mette a denominatrice unica dei due figli. Ma quando si fa questa sezione aurea viene la quantità di tutti i nomi di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Modeu, Cheioho, che valgono 381. La sezione aurea comprende questi valori qui, 381. Infatti è determinata da 999 meno 381 e risulta 618. Poi da 618 meno 381 viene fuori 237 e 237 è Anna, Paolo, Torquato, Modeu. Togliendo da tutto il nome il valore di Anna, Paolo, Torquato, Modeu, viene fuori il 144, che è Romano, Antonio, con tre valori che sono così, uno che si somma viene fuori l'altro, andando avanti da una parte si arriva all'infinito in positivo con tutti quanti i miei nomi, andando dalla parte opposta si arriva all'infinito negativo con tutti quanti i miei nomi. Per cui in Genesi 1,25 è proprio attraverso i valori in gematria italiana, sia di Esau, sia di Giacobbe e quelli della mamma, ecco, è la comunicazione di tutti quanti i nomi. Ma poi andiamo a vedere che cosa? L'altro estremo, nato a, perché nome e cognome abbiamo visto, c'è nome e cognome, ma non uno solo, ci sono tutti, li abbiamo visti, nato a Felitto, ma perché a Felitto? Cosa c'entra? Felitto con Genesi 38, con Genesi 25. C'entra perché San Matteo, per dimostrare che Gesù era stato predetto da Osea, che aveva detto, ho chiamato il mio figlio dall'Egitto, aveva inventato di sana pianta la fuga in Egitto di Giuseppe e la famiglia, perché volevano uccidere il bambino. Cosa mai accaduta? Perché la smentisce clamorosamente un altro evangelista, Luca, il quale dichiara che il suo Vangelo l'ha fatto su base di testimonianze dirette di coloro che furono gli interpreti degli eventi. Dunque, non cose raccontate e poi ripetute nei racconti, no, Luca è andato a intervistare la Madonna, e la Madonna gli ha detto, apparve a me l'angelo che mi disse, io andai da Elisabetta che mi disse, e io dissi questo magnificat, usai queste parole qui. Solo Maria poteva avere fatta testimonianza, e Maria smentisce, dice, quando passati i giorni in cui io dovevo essere purificata, andai e fui purificata, vennero due che mi dissero, uno, ringrazio il Signore perché ho visto la salvezza che mi aveva mandato, mi aveva promesso, mi aveva promesso tu non morirai senza vedere la salvezza. Ecco, ho visto la salvezza. E poi ci fu una profetessa, Anna, che disse, una croce, una grande spada trafiggerà il tuo cuore. E dopodiché se ne andarono a Nazareth e non si mossero mai di lì. Non a Nazareth, andarono a dove risiedeva Gesù e, insomma, adesso scusatemi, mi sto... Ecco, insomma, da Osea il nome nasce, quindi siamo sempre nel tema dei nomi, perché Dio disse che questi nomi sono stati chiamati proprio dalle divinità dell'Egitto. E quali sono? sono Orus, che è trasceso in Ro, in Ro nel romano, Amon, che è trasceso nel mano, Aton, che è trasceso in Antonio. Vedete, quando il Signore disse dall'Egitto ho chiamato mio figlio è perché l'ha chiamato romano Antonio. E dall'Egitto dove è andato? A Felitto, perché l'ego di un romano con un io con dentro due croci di Dio, quella del Padre e dello Spirito Santo, dà il nome all'Egitto, ego e un io romano con due croci dentro, un io italiano con due croci dentro. Ma quando dall'Egitto si trasferisce a Felitto, ecco che l'ego diventa un io, in cui la I e la O sono una dentro l'altra, diventano la lettera Fi del greco, che significa Spirito. Quindi l'ego diventa un io in Spirito trascendente e diventa lo Spirito trascendente del Dio El, del Dio Eli, nell'italiano io con due croci dentro. Per cui, come vedete, questi estremi della carta d'identità in cui c'è il nome, c'è il cognome, c'è la rava e la fava, qui c'è tutto spiegato con una chiarezza di definizione che voi dovete soltanto osservarla. E questa è la parte che viene dopo. Ci ritroviamo nel Cilento. Cilento. Cosa c'entra con Gesù? Ah, c'entra perché tutto nacque a Elea, dove ci fu la prima epifania del Dio dell'essere, fatta dai tre grandi filosofi dell'epoca, Senofane, Parmenide e Zenone di Elea, che come i tre remagi di Oriente vennero dalla Grecia verso l'Italia, puntando lo sguardo lì dove era Montestella e si fecero guidare da Montestella. E arrivati a Montestella, sotto la stella, gioirono, come racconta San Matteo, e fecero l'epifania del Dio dell'essere. Il Dio dell'essere è come Dio si dichiarò a Mosè, io sono colui che sono. Ebbene, il Dio dell'essere si dichiarò lì in riva al fiume A lento, un fiume che scorre lento, lento e comincia come A, A lento. Dopo diventa anche l'emme, quando se ne va a B et l'emme, anche l'emme, non solo A lento. Quando va a Bet l'emme e B et l'emme, a Gerusalemme. L'emme l'emme è il flusso di Dio, è un Dio lento all'ira e che procede sempre l'emme l'emme. Ebbene, passati quasi duemila anni, eccolo che compie il percorso da A, B, C, ritorna in Cilento, dove era nato il Dio dell'essere in filosofia. Ecco la ragione del Cilento. Ora vediamo al giorno della nascita, nato il. Bene, nato il, stiamo parlando di Genesi 25, è il gennaio 25 nel 38. In Genesi 25 c'è chiaramente gennaio 25. Genesi vuol dire anche gen, gennaio, Bibbia, libro 1, 25, è il primo 25 del primo mese nel giorno 25. Invece il 38 trascende qui dal versetto 26 che è quello che viene dopo il 25 perché la nascita in Bibbia, come vedete, è nel 25 e 26 e quando diventa il 26 che è il giorno dopo diventa 62. E 62 che cosa è riferito al Dio 100? È 100 meno 38. Eccolo dove nasce in modo trascendente il Dio nel 38. Ma qui in Genesi 25 è ancora prematuro. Lo vedremo poi in Genesi 38. Per adesso il 38 è espresso solo attraverso il giorno 26. Ora, nei documenti, una volta c'era la paternità, c'era la eternità. Adesso non c'è più. E però, per quanto il Signore è scrupoloso in me, non solo mette padre e madre, ma mette anche nonno, nipote e i due gemelli e in più la moglie. Altra cosa che oggi non è richiesta più, perché oggi nei documenti sposato, no, non c'è più ciò sulla carta di identità, ma nella carta di identità di Dio è c'è, vediamo come c'è il padre. Allah, il trascendente Allah, lo vedete lì nel nome che ha. È quel nome che quando è letto da destra verso sinistra e noi vogliamo fare allo stesso modo, dobbiamo fare solo come si fa con gli scritti di Leonardo da Vinci e osservarli allo specchio. Lo specchio capovolge esattamente tutto e noi possiamo leggere in italiano. Così capita proprio a nome di Allah. Quando lo vediamo allo specchio e capovolgiamo la visione in modo che noi la leggiamo come la leggono gli arabi, ecco che per noi italiani il nome di Allah diventa lui e lui si mette davanti ai due gemelli. C'è davanti lui. Allora cosa succede agli altri due gemelli? Giacobbe era il primo nella G di Gesù. E adesso è costretto a passare di ruolo. Se non è più primo deve essere terzo, perché il due, il primo numero primo, è rappresentato in Bibbia dall'uno e dal tre e se non c'è l'uno ci deve essere tre. Allora la G di Giacobbe non è più solo la G, diventa già le prime lettere già di Giacobbe. e si mettono pacificamente dietro a lui, dietro ad Allah. E poi c'è Edom, che poveretto, aveva perso il nome ed era stato contorto e noi lo raddrizziamo e diventa Amodè. Luigi Amodè è mio padre. Gli manca solo O. E perché non c'è questa O? Perché Luigi Amodè, così com'è, è 88. E 88 è proprio l'indice dell'infinito dell'infinito. Il 13 che va messo sotto lo porterà poi, il nome di Luigi Amodèo, ad essere 101, ossia tutta la presenza 1 del ciclo 10. Ecco, vedete, il padre più fotografato di così in Genesi 25 non potrebbe essere. C'è tutto intero il nome posto sul 13. E perché sul 13? Perché anche quando nascerà il primo uomo, che si chiamerà Adamo, Adamo passa 130 anni prima di generare Seth. Qui non sono 130 ma sono 13, ossia sono la presenza decima di quel 130 che esiste come l'atteggiamento del figlio in Adamo, che è il primo, il quale ad amo va già ad amo, de. Insomma, vediamo alla madre. La madre si chiama Mariannina, mia madre, è 84. È la madre ideale di Esau e Giacobbe che valgono 42 ciascuno. E il nome, abbiamo visto, ha una sua giustificazione. Il cognome è Baratta e lei baratta realmente il ra nel suo ventre con il ni del Nazareno Gesù. Dov'è sto baratto? È proprio segnalato nel grido disperato che fece Gesù prima di morire. E lì, e lì, le masabactani! E gridò, e lì, e lì, le mamme sanno barattare il Nazareno Gesù. Ma vedete, il ra non c'è, perché il ra è trascendente, è il Dio del Sole questo ra che è il figlio romano modeo di Baratta, che sta nel cuore di Baratta. Quindi Mariannina Baratta ha il baratto proprio in questo spostamento che c'è poi tra i due figli, tanto che chi è nato primo passa per secondo. E vediamo a nonno e nipote. Perché nonno e nipote? È perché, vedete, la nascita qui del nome Gesù implica due versetti, sono il 25 e il 26 e dunque anche la nascita di Romano in tutto il suo nome deve essere fatto con due versetti e con due nascite, perché poiché in Romano il 25 è il giorno nascita, ci deve essere un giorno di nascita 26, con due che sono molto vicini al Romano, e ci sono, perché Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, in Paolo e Torquato ha due nomi che corrispondono a Paola, che è la sua nipote, e Torquato di cui egli, ossia io, sono il nipote. Quindi Romano è nel giusto mezzo tra due, uno che gli è di cui è nipote e una di cui che gli è nipote a lui, e sono nati tutti e due nel giorno 26. Come partecipò Giacobbe al nome Gesù, così Paola e Torquato partecipano al nome di Romano Amodeo, che prende anche i due nomi da coloro che sono nati il giorno 26, proprio secondo questo binomio 25-26 con cui nacquero Esau e Giacobbe, che formarono una cosa sola, e anche qui Romano, Antonio, Anna sono una cosa sola, l'altra, Paolo Torquato, è nato il giorno dopo, attraverso proprio le origini da un nonno e dall'altra parte c'è una nipote. Quindi poi ci sono anche i due gemelli, e perché? Perché l'alterego che ho io, proprio quello che è nato come mio gemello e che ha preso le mie veci in toto, ha avuto il compito di avere lui i figli, e lui ha avuto due gemelli, e quei due gemelli sono descritti proprio come sono stati descritti questi qui in Bibbia, perché Marco uscì dal parto con il calcagno reso così malconcio da Andrea che dovette essere operato chirurgicamente. Vedete quella mano del fratello che gli tira il calcagno c'è stato realmente nel gemello di mio fratello, e perché la nascita cinque giorni prima di Cristo? E perché, vedete, venticinque, quando si fa la quadratura, viene fuori cinque, cinque prima di Cristo, assieme a quell'uno dopo di me, fanno i sei giorni dell'intera creazione, e per cui per creare questi tre si parte dal giorno di meno cinque rispetto alla nascita di Cristo e si va al più uno rispetto alla mia e diventano sei, quando io e Cristo siamo una cosa sola, la moglie. Questa qui è una cosa che, veramente, lei si chiama Giancarlo Scaglioni, Gesù come acronimo. E se in Gesù, in Genesi 25, lei sposa proprio Esaù e sposa i suoi estremi, che sono E e U, vedete che Gesù contiene G.S. che sono gli estremi di Giancarlo Scaglioni e E.U. che sono gli estremi di Esaù. Ma, quando questo accade, ciò è espresso a livello intero di Gesù, di uno solo. C'esiste anche a livello trino, perché lei si chiama Giancarla e come già, vedete, è nelle tre lettere rappresentate da Giacobbe, quando Giacobbe partecipa con tre lettere dopo Allah. E dunque, vedete che lei è la sposa, sia in relazione a Esaù e a Giacobbe, sia in relazione a quando Giacobbe è già. Lei è veramente una sosia di Gesù, nata 11.1, tutti i Santi, da Giuseppina, come San Giuseppe, e da Mario, come Maria. Maria aveva la mamma che si chiamava Anna e Mario aveva la mamma che si chiamava Anna. Mario è nato il 15 agosto, il giorno dell'ascensione di Maria in cielo. Vedete, se questo non è un rappresentante proprio di quel Gesù che Dio padre doveva sposare, chi mai potrebbe esserlo? Per cui, vedete, gli estremi in una carta d'identità qui ce n'è molti e molti di più, ancora molti di più, di quelli che servono normalmente e sono espressi da un documento di riconoscimento come la carta d'identità. E ora passiamo a Genesi 38. Genesi 38 è il naturale seguito dei due gemelli in Genesi 25, infatti quando si sommano insieme i 25 con 84 e viene fuori 115, il tutto porta a 199, che è tutto quanto il percorso di uno, il un cento che si sposta interamente di cento. Sono insieme, sono una cosa sola. Gesù, in Genesi 38, è in trentottesima generazione a partire da Giuda, il padre in Genesi 38 secondo la genealogia scritta nel Vangelo di San Matteo e che io vi ho mostrato. Romano, come è indicato Romano in Genesi 38? Romano è simillinamente esposto nella di Romano, quella mano dichiarata del primo e assegnata ai congiunti morti Er e Onan, i quali estremi ma congiunti sposi di Tamar sono stati coloro che sono stati i veri genitori di quella mano. Quella mano è di Ro, è la di Romano. Tutti i nomi. In che modo sono segnalati tutti i nomi? Nel 38.1, ossia capitolo 38, libro 1, il 381 è il valore di tutti e sei i nomi di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Modeo, ossia 66 più 78, dice un errore, più 26 più 51 più 113 più 47. 66 più 78, il totale è 381, ma 381 è capitolo 38, libro 1. Eccoli tutti i nomi, valgono 381, ma ci sono tutti i nomi anche nel codice fiscale, perché il codice fiscale si occupa dei nomi e del cognome. I nomi vengono dopo, sono tre lettere che vengono dopo i primi tre che sono il cognome. Ebbene, il cognome che ho io è MDA come Adamo, proprio tale quale letto in ebraico, mentre invece il nome proprio nasce dai miei tre nomi che io ho. Antonio, Anna, Romano, Antonio, Anna, la prima consonante di ogni nome. Ebbene, R, N, N sono esattamente le consonanti dei due mariti morti, R e Onan. Vedete, non c'è altre consonanti. Il nome è quello lì, è R, N, N, sono R e sono Onan, sono proprio i due padri morti di Genesi 38. Adesso dobbiamo indicare dove è Nato. Nato, affelitto, cilento. Risulta nel codice fiscale, perché nel codice fiscale l'omodossola 527i indica proprio che cosa? Che riguarda di 26 più 26, 26 è Dio. Gli estremi D e I indicano che questo estremo della località della nascita riguarda, è D, D, 26 più 26, 52. Ma cosa sono questi 52? Sono i sette giorni, i sette D, per cui vedete, sono sette D, estremi D e I, di 52 D e gli estremi sono proprio quelli legati al paese felitto del Cilento, nato il 25 gennaio del 38, dove risulta? In Genesi 25 risultava Gennaio 25. Il 38 risulta proprio in Genesi 38. È pacifico che questo 38, che per Gesù era la 38esima generazione, per me invece è proprio l'anno 38. Il padre, abbiamo già visto che è Luigi Amodeo, è negli estremi G.A. anche del padre in Genesi 38, perché in Genesi 38 il padre si chiama Giuda e Giuda ha due iniziali G e l'altro estremo che è A, che sono G come estremo di Luigi e A come prima lettera di Amodeo, per cui vedete che gli estremi ci sono anche in Genesi 38, quelli del padre, gli estremi della madre. In G 38 la mamma si chiama Tamar e Tamar è proprio il nome con gli estremi congiunti di Barazzamariannina, vedete? Tamar, estremi congiunti. Tamar costringe Giuda a renderla feconda e sono gli estremi esatti congiunti in Barazzamariannina. Più chiaro di così che la mamma Tamar in Genesi 38 sia mia madre, io non so come potrebbe essere scritto e descritto. I due gemelli, perché anche qui nascono due gemelli, cosa c'entrano? Si chiamano Zerac e Perez e gli estremi ZZ, cui segue una R re, indicano la R uguale 16, che è il piano 4x4 di un romano che è zero. R in Genesi 38 è un morto, romano è un morto. Voi credete che io mi dia delle arie perché creda di essere chissà chi, ma io sono un morto, io sono un asino che non conta nulla, io rappresento il creatore e lui tutto ciò che è valido in me, anche il mio nome, per me, io sono zero. Sono proprio quello zero che va a essere zero sia da sinistra sia da destra, ma attenzione, tra i due zer c'è A, Cristo è, Amodeo, Cristo è. La moglie, la moglie, e come fa? Adesso la moglie a essere rappresentata anche qui, vedete, era stata posta già in Giacobbe, ma lei si chiama Giancarla Scaglioni. Ebbene, adesso in Genesi 38 il suo nome e cognome stanno nel colore scarlatto di quel filo legato al di Romano. Quel filo era il matrimonio con Romano e il suo colore scarlatto aggiunge che dopo il già c'è il carla e lei in sca, inizio di scarlatto, è scaglioni. Insomma, se voi non vi rendete conto che qui ci sono tutti gli estremi, non so in quale altro modo più tangibile di questo il Signore potrebbe avervelo mostrato. Ma, cari amici, tutto ciò non basta perché voi pretendereste che io facessi chissà che, che io fossi come Gesù Cristo che faceva i miracoli, ma in me, vedete, si è impersonato il Padre. Voi in ogni Padre non vedete mai nulla. Quando il Padre è una bomba atomica, voi la vedete lì tranquilla. Quando la vedete potente? Nell'effetto, quando diventa un figlio e esplode. Il potere del Padre, della causa, voi lo vedete solo nell'effetto. Gesù è l'effetto della causa, ma la causa in me ancora dorme. Passeranno duemila anni e con il tempo che viaggio verso l'origine? Verrà Gesù e dirà, sono sceso dal Padre. Il Padre mi ha mandato. E chi era suo padre? Si è rappresentato su un somaro di nome Romano Antonio Anna Palo Torquato. Aveva fatto esattamente come Gesù quando, per entrare come un re su un asino, comandò un asino e disse agli apostoli, andate lì, prendetelo, e se vi chiederanno perché ci prendi l'asino, rispondete, l'asino serve al nostro padrone. E questo io sono, amici, uno che serve a Dio. Non servo a me stesso, io servo a Dio. E quando un giorno vedranno queste cose, si meraviglieranno di voi che non le avete mai viste e diranno, ma come hanno fatto a non accorgersi? Nel caso di Gesù era stato Isaia che aveva parlato dell'uomo dei dolori, in un modo che bisognava poi andarlo a cercare con l'antanino per vedere qualcosa in relazione a Gesù. Ma qui ci sono tutti gli estremi, molti ma molti di più di quelli che servono. Come hanno fatto nel secolo ventunesimo a non accorgersi di aver avuto la presenza di Padre e Spirito Santo che parlava attraverso la voce di un asino?